Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. In apertura la cronaca partendo da Catania, dove la polizia ha tratto in arresto un quarantenne che poi finito in carcere, l'uomo nella sua abitazione deteneva delle armi, lo faceva ovviamente illegalmente, anche armi da guerra. La polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un quarantenne per detenzione illegale di arma da guerra e arma comune da sparo. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Catania hanno appreso che all'interno di un'abitazione nel quartiere di San Cristoforo potevano essere state occultate delle armi da fuoco. Per tale ragione gli agenti della sezione antidroga hanno effettuato una perquisizione presso l'edificio. Qui i poliziotti hanno rinvenuto una pistola mitragliatrice calibro 7,65 munita di caricatore e un revolver calibro 38 Special risultato oggetto di furto. Unitamente alle armi sono state trovate oltre 200 cartucce di vario calibro. Il quarantenne è stato condotto presso la casa circondariale di Catania a Piazza Lanza. Sono in corso accertamenti finalizzati a verificare se la mitragliatrice e la pistola siano state utilizzate in precedenti episodi delittuosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro. Da Catania ci spostiamo nella Palermitano a Partinico e Borgetto, per la precisione dove i carabinieri hanno effettuato degli approfonditi controlli nel territorio, controlli che hanno portato alla denuncia di 5 persone per vari reati. Vediamo quali. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo 5 uomini di età compresa tra i 20 e i 45 anni. I militari dell'arma hanno eseguito un servizio ad ampio raggio finalizzato alla prevenzione dei reati e delle violazioni al codice della strada, organizzando posti di controllo lungo le principali arterie dei comuni di Partinico e Borgetto. Durante i controlli a Partinico, un quarantenne è stato deferito per porto abusivo di arma da taglio, poiché gli è stato trovato addosso un coltello di 17 centimetri, oltre a una modica quantità di sostanza stupefacente, per la quale è stato segnalato alla prefettura di Palermo come assuntore per uso non terapeutico. Altri due uomini invece, già noti alle forze dell'ordine, sono stati deferiti per ricettazione, essendo stati fermati alla guida di un'autovettura con targa straniera risultata rubata. A Borgetto, un 37enne, è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva con sé due dosi di cocaina e circa 40 grammi di marijuana. Un 24enne, infine, a cui era già stata contestata la guida senza patente, è stato identificato dai carabinieri mentre conduceva un'auto ed è stato pertanto deferito, essendo recidivo nel biennio per la medesima violazione. Nel complesso sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per oltre 3.000 euro e sono stati sequestrati tre veicoli. Un arresto e 27 denunce e questo il bilancio dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine a Siracusa con l'obiettivo di contrastare i furti di energia elettrica. La Polizia di Stato, coadiuvata da personale dei carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che dai tecnici dell'azienda della rete elettrica, ha svolto un'operazione interforze nel quartiere della Mazzarona al fine di verificare furti di energia tramite allacci abusivi alla rete elettrica. Le operazioni hanno visto l'impiego di personale della Questura di Siracusa, del reparto mobile e del reparto prevenzione crimine di Catania, oltre che di equipaggi dell'arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza e hanno consentito di conseguire un importante risultato sul campo della repressione del reato di furto di energia elettrica. Infatti sono state denunciate 27 persone, mentre un giovane di 25 anni, che si trovava in un'abitazione sottoposta al controllo della Polizia, dopo che erano state rilevate delle irregolarità all'allaccio della rete elettrica, è stato arrestato con l'accusa di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel corso dell'operazione, inoltre, sono state identificate 58 persone e controllati 49 mezzi. A Giardini Naxos c'è un quartiere senza acqua, ovviamente un grosso problema che adesso necessita di interventi urgenti. E quanto chiede il Comitato Sud Chiama Nord? Il rappresentante del Comitato di Sud Chiama Nord, Ecologia Integrale. Cosa accade al quartiere di Orto Grande e dove ci troviamo? Dunque, siamo qui oggi perché i cittadini del quartiere di Orto Grande vivono ormai da oltre un mese in una situazione di grande disagio legata all'emergenza idrica. Come ricorderete già quest'estate, noi con un'interrogazione, io e il consigliere Fighera quando eravamo ancora in Consiglio Comunale, avevamo cercato di porre l'attenzione di questa amministrazione su un fenomeno che è ormai strutturale. Abbiamo tutti negli occhi le immagini della grande siccità che oggi sta vivendo la Sicilia. Quindi qualsiasi governo locale deve porsi come obiettivo, quello di trovare soluzioni per far fronte all'emergenza idrica. Ora, noi abbiamo già da tempo denunciato due cose in particolare. I nostri pozzi, che in questo momento necessitano di manutenzioni urgenti e sono dei pozzi con l'abbrodo, è la rete idrica che non è più adeguata alla pressione demografica della Giardini odierna. È una condotta idrica vetusta e sicuramente con una portata non sufficiente. Quali sono gli interventi che Sud e Chiamanordo vorrebbe che fossero attivati? Dunque, noi abbiamo chiesto a questa amministrazione innanzitutto di trovare le risorse per gli interventi più urgenti, quindi per intervenire per le urgenze più importanti con somme in bilancio e poi ovviamente di avviare una programmazione strategica, cercando di individuare quelli che possono essere dei fondi di varia natura, per agire strutturalmente sul fenomeno. Una cosa importante che vogliamo dire è che non bisogna alimentare continuamente scontri istituzionali dicendo che la mancanza d'acqua è sempre colpa degli altri, perché sembra quasi che questa amministrazione voglia sempre dare la colpa agli altri, ora è Amam e la volta scorsa era Tavormina. Non è così. Noi abbiamo una forte responsabilità e dobbiamo assumercela tutta di intervenire su questa fattispecie e risolverla per non far vivere ai cittadini questo disagio. Parliamo ora di un settore in difficoltà, quello vitivinicolo. Vediamo quali sono i primi provvedimenti del governo regionale. Attivazione della misura della vendemmia verde, investimenti per le cantine e per la promozione sui mercati extraeuropei per rilanciare il comparto vitivinicolo siciliano. Sono alcune delle misure concordate nel corso della riunione del gruppo di lavoro della Sicilia del Vino, istituito nei mesi scorsi per la redazione del piano vitivinicolo regionale che si è tenuta nei locali dell'assessorato dell'agricoltura. Un incontro per fare il punto sui bandi in procinto di essere pubblicati e sulle misure volte a proteggere e rilanciare il settore vitivinicolo dopo l'annus ribilis del 2023, caratterizzato da diverse criticità dalla crisi economica alla catastrofe della peronospora passando per la siccità. Tutti i fattori che stanno mettendo a dura prova anche la produzione del 2024. Coniugare programmazione ed emergenza, ha dichiarato l'assessore all'agricoltura Luca Sanmartino, è la vera sfida che caratterizzerà il nostro lavoro nei prossimi mesi per salvaguardare un settore che ha costruito una grande credibilità e reputazione a livello internazionale. Le misure concordate con i rappresentanti della filiera vitivinicola vanno in questa direzione, ha affermato Sanmartino, che ha poi annunciato la pubblicazione del bando per i contributi per danni causati da peronospora 2023, previsti dalla legge di stabilità 2024, con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro. Prolungare la durata dei diritti di impianto e salvaguardare il vigneto Sicilia, elemento paesaggistico fondamentale sottoposto all'aggressione della perdita di valore del fotovoltaico e del cambiamento climatico. Sono le richieste che i rappresentanti della filiera vitivinicola hanno sottoposto all'assessore Sanmartino affinché le riporti in sede nazionale ed europea. Inaugurato ad Acireale il nuovo anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico. Tutti i dettagli nel servizio. Ad Acireale, presso il Centro Studi Genuardi di Santa Maria Malati, è stato inaugurato l'anno giudiziario 2024 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo, che raccoglie nei suoi uffici la provincia ecclesiastica di Catania, comprendente l'Arcidiocesi di Catania, la Diocesi di Eccreale e la Diocesi di Caltagirone. Ad apri è la cerimonia, la recita dell'ora media e il saluto da parte di Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo di Eccreale, Monsignor Luigi Renna, Arcivescovo di Catania e Don Salvatore De Pasquale, Vicario Generale di Caltagirone. Nel corso dei saluti iniziali, il Vescovo Raspanti e Monsignor Luigi Renna hanno sottolineato l'importanza del Tribunale. Finalmente un avvio ufficiale, bello, con tantissima presenza di persone e soprattutto con tanti che hanno potuto ascoltare più direttamente e da vicino tutta la problematica riguardante alla vita della famiglia, alla questione della nullità matrimoniale e le problematiche inerenti a questi procedimenti. Cose che molti ignorano ancora, ma che ci ripromettiamo nel futuro di continuare a diffondere questo aspetto fondamentale che è l'amministrazione della giustizia nel campo della vita matrimoniale e familiare. Una svolta nella vita delle chiese che sono in Sicilia, perché solo fino a due anni fa questa zona della Sicilia deriva a quello regionale di Palermo. Perché questa scelta per stare vicini alla gente, per stare vicino soprattutto alle coppie che desiderano fare chiarezza sul loro matrimonio e portare a termine un riconoscimento di nullità se ci sono le condizioni. Tormina e Giardini Naxos, noto comprensorio turistico, si prepara alla stagione turistica appunto e fioccano già le prenotazioni anche dalla lontana Australia. Giuseppe Virzi, giornalista australiano. Anche alla luce del fatto che nel nostro comprensorio a Tormina e a Giardini fioccano le prenotazioni degli australiani. Quali sono i consigli che può dare a chi è destinato ad accogliere tanti tanti ospiti provenienti da questo lontano paese? Allora, in primis, prenotate adesso perché poi luglio-agosto dice ma se avremmo già prenotato prima. Allora, io vi consiglio adesso, se volete venire qui a mare, io sono disponibile sulla mia pagina Facebook di dare la gente immobiliare, amici che hanno gli appartamenti. Poi, se non volete venire proprio a Tormina e Giardini Naxos, ci sono i paesi vicini qua. Monciuffi Melia, c'è Calataviano, c'è Fiume Freddo, i Putiedi, quindi c'è tante opzioni e poi quei posti che non sono vicini al mare naturalmente sono a prezzi abbordabili. Come vede dal punto di vista turistico il nostro comprensorio? Cioè, gli australiani che consigli possono dare a migliorare il comprensorio turistico? Ma il fattore qui è, diciamo, i parcheggi, ma sono poi cose che uno si abitua, paese che vai, usanze che trovi. La Sicilia c'ha tante cose che si dovrebbero aggiustare, però guarda, nell'insieme, se tu vai a Parigi, a Londra, a New York, quando si ha da mangiare, che mangiare? Cadegli, mangiare profumi, odori, colori, i siciliani, c'è tutto qua. Non ci manca niente. E quindi lanciamo un messaggio, venite qua in Sicilia, a Taormini, a Giardini. La Sicilia vi aspetta, vi accoglie. Chiudiamo con il calcio e il Palermo che si prepara al big match contro la Cremonese. Sentiamo Mister Corini. Ribadisco il concetto, è una partita oggettivamente molto, molto importante. La Cremonese ad oggi è un punto sopra di noi e dunque siamo in svantaggio rispetto a loro. Di conseguenza sappiamo bene quanto è importante consolidare il percorso che stiamo facendo, andando a giocare in un campo e contro un avversario veramente di grandi qualità, ma con l'ambizione e la consapevolezza che abbiamo caratteristiche che possono dare fastidio alla squadra avversaria e con un percorso di consapevolezza molto importante dell'ultimo periodo e questo vogliamo portare in campo consapevoli che qualsiasi cosa accada e la speranza è che accada qualcosa di molto bello. Ci sono poi 12 giornate con 36 punti e può succedere veramente di tutto, a prescindere da come andrà la partita di sabato. La settimana scorsa vi ho detto quanto è stato importante quel filotto di quattro partite che ha iniziato da Parma per averlo affrontato con coraggio e averlo sviluppato due vittorie perché abbiamo vinto con la Cremonese e col Pisa, aver pareggiato a Parma e a Como essendo in vantaggio praticamente fino nel tempo di recupero, dunque per me lì è nata l'idea di quello che poi piano piano siamo riusciti a consolidare, migliorarci, ma come poi dico sempre ai miei giocatori a migliorare e ottenere risultati, ti assumi della responsabilità e su questo bisogna dare una grande continuità e abbiamo un'altra verifica molto molto importante sabato a Cremona. Io penso che se affrontano due squadre che hanno un'identità e dei concetti e dunque sicuramente strategicamente rispondendo prima a Fabrizio nella contrapposizione dei sistemi loro possono prenderci certi vantaggi in certe zone di campo, noi pensiamo di prendercene in altre zone di campo rispetto a come giocano loro e poi per me l'equilibrio mentale, la capacità di leggere i momenti della partita diventerà fondamentale quando ci sono giocatori di un certo livello e dobbiamo dire che nella Cremonese insomma hanno anche giocatori che con una giocata importante possono rompere l'equilibrio, parlo di Vasquez, di Falletti, di conseguenza hanno una squadra qualitativa che anche da punto di vista prettamente atletico a gamba, pedala e dunque è una squadra costruita per vincere il campionato e dunque dobbiamo fare una partita attenta nel portarla dove vogliamo noi, nel coprirci bene dove sappiamo che loro possono prendersi dei vantaggi ma anche con la consapevolezza che in certe situazioni possiamo fare male, l'abbiamo dimostrato anche due mesi fa nella partita d'andata dove anche loro hanno fatto una partita d'attacco ma non ci siamo risparmiati nemmeno noi. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie.